Perché intraprendere il viaggio della sostenibilità in azienda? Facile? Per tre motivi. Prendere parte a quella che è la sfida globale che tutti noi dovremmo affrontare. Innovare, secondo motivo, perché è un'opportunità per crescere, per essere creativi, per generare nuove soluzioni e, in terzo luogo, per essere un'azienda del domani, del futuro, perché questo sarà uno dei prerequisiti per poter operare in maniera efficace ed efficiente nel futuro. Intraprendere il viaggio della sostenibilità in azienda vuol dire conoscerne le dinamiche, conoscerne i tecnicismi, conoscerne i concetti chiave e incorporarli nella propria modalità di fare azienda. Vuol dire anche riconoscere quali competenze vanno aggiunte, vanno sviluppate, vanno potenziate per arricchire la propria capacità di produrre, di organizzarsi, di rispondere alle esigenze del mercato. Intraprendere il viaggio della sostenibilità quindi è sicuramente una necessità di impegno, un bel viaggio alla ricerca di nuove cose, di nuove soluzioni e sarà molto gratificante.